Per mesi e ancora oggi il Cilento ha mostrato il suo grande cuore mobilitandosi per Chicco, il bimbo di Stella Cilento che a soli 5 anni è stato costretto ad affrontare una difficile malattia. La famiglia si è trasferita a Genova per garantire le cure necessarie al piccolo ed è disposta anche ad andare all'estero. Ecco perché la scorsa estate la mamma aveva lanciato un appello tramite i social a sostenere la battaglia del bambino con delle donazioni su un conto corrente bancario. In poco tempo è scattata la gara di solidarietà e in tanti si sono mobilitati con iniziative singole o eventi grandi e piccoli per raccogliere dei fondi. In diverse attività commerciali inoltre sono stati posizionati dei salvadanai per contribuire alla raccolta. I risultati non sono mancati eppure non sempre il ricavato è giunto a destinazione. Lo fanno sapere proprio tramite la pagina Facebook Forza Chicco da cui è partito il primo appello. Per darvi un'idea di quanto ammonta la cifra stiamo contabilizzando le donazioni ricevute e ci siamo resi conto che alcune delle manifestazioni e delle persone fisiche che hanno raccolto i fondi per Chicco non ci hanno fatto per venire il ricavato, fanno sapere i familiari. Una mara sorpresa considerato che molte hanno deciso di donare, ma come sembra i soldi non sempre sono giunti a destinazione.